La giornata di oggi è stata una giornata secondo me molto importante perché ha dato la possibilità di capire a un'ampia platea il lavoro che Agid, Team Digitale, ha fatto in quest'anno almeno. Un anno ricco di collaborazione, di scambi, anche di confronti e che ha portato da una parte al famoso piano triennale che il Presidente del Consiglio ha approvato ed oggi per la prima volta ha una spiegazione ampia e completa, veramente di ampio respiro, di tutte le progettualità e di tutti gli elementi che stanno dietro al piano triennale e quindi come il piano triennale non va inteso come la fine di un percorso ma in realtà come l'inizio del nuovo percorso di trasformazione digitale. Ora un percorso di trasformazione digitale che vede secondo me altro elemento di grande importanza, la saldatura di competenze del Team Digitale con quelle di Agid in una logica quindi di sinergia, collaborazione e vorrei dire anche di veramente di costruzione di un team comune. Questo credo che forse sia l'elemento più importante e almeno dal punto di vista di Agid più innovativo perché consente di saldare delle competenze che sono delle competenze sostanzialmente sul funzionamento della pubblica amministrazione, sulle modalità con cui la pubblica amministrazione lavora, sui bisogni che ha la pubblica amministrazione con degli elementi di novità che costituiscono quelli che invece possono arrivare da un'esperienza che viene dal mercato, da un'esperienza che viene dal Team Digitale, quindi con un'esperienza che si va ad arricchire e completare che credo che darà nuovo, secondo me, impulso e forza a tutto il percorso di trasformazione che dobbiamo avviare.